viviamo un tempo di fatiche e costrizioni misure che ci impediscono di vivere una vita normale privazioni che ci tolgono la libertà ci aspetta un lungo periodo di sacrifici ma da un sacrificio può nascere un bene parleremo di questo insieme domenica prossima su rai 2 sulla via di damasco dove cercheremo di capire appunto che cosa significa davvero sacrificio vi aspetto non sappiamo bene cosa accadrà speriamo quanto prima che trovino rimedio saremo costretti per lungo tempo a vivere in un'esperienza di comunione e di rispetto alla fine potrebbe venire fuori una possibilità di letizia come dice lo sto d'eschi la bellezza potrebbe salvare il mondo